Il farmaco dimagrante è un farmaco che soprattutto deve diminuire il senso di fame, velocizzare l'arrivo della sazietà, aumentare il metabolismo basale e ridurre l'assorbimento dei cibi. In passato sono stati fatti tanti tentativi per trovare il farmaco giusto, ma è adesso con le conoscenze soprattutto del sistema endocrino-ormonale che abbiamo e con l'aiuto di fortissime aziende che ci hanno supportati, riusciamo ad avere a disposizione dei nuovissimi farmaci dimagranti che possono essere utilizzati già in prima battuta, cioè insieme alla dieta, insieme all'esercizio fisico e ai sani comportamenti quotidiani, ecco che lo specialista endocrinologo, ovviamente su casi selezionati, può già partire con il farmaco dimagrante. E c'è una cosa in più anche, il farmaco dimagrante con determinate condizioni che può essere utilizzato anche nel mantenimento, quindi dimagrimento e mantenimento con l'aiuto dello specialista e dei nuovi farmaci dimagranti. Ciao!